Distinguiamo un po' di situazioni possibili, con una premessa, produrre un farmaco noto di cosiddetta sintesi chimica, cioè un farmaco che richiede un'ingegnerizzazione particolare, costa oggettivamente poco. In una scatola di 30 compresse che al pubblico possono costare 4 euro, tolto l'imballo, il cartone, l'alluminio, il foglietto illustrativo, il costo di una singola compressa è veramente di nemmeno forse un centesimo, quindi il costo intrinseco di produrre un farmaco una volta che l'abbiamo individuato è molto basso. E quindi anche un costo di pochi euro può essere comunque remunerativo e non devo per forza immaginare che se costa 20 euro è fatto con una qualità 20 volte superiore alla sua coppia che costa un euro. La qualità è sostanzialmente la stessa. Come posso fare a capire se il mio medico mi ha prescritto un farmaco generico o un farmaco a brand diciamo o me lo dà il farmacista? Intanto c'è uno strumento predisposto dall'agenzia del farmaco che sono le cosiddette liste di trasparenza che sono accessibilissime con un comune computer, su internet si cercano e troverò tutti i farmaci che sono presenti in queste cosiddette liste di trasparenza che sono farmaci generici equivalenti. Compreso il farmaco originatore da cui tutto è partito. Oltretutto sulla scatola troverò l'indicazione farmaco equivalente perché può succedere sia che il produttore decida di vendere il farmaco col nome del principio attivo che può essere amitriptilina eventualmente seguito dal nome della produttore o di dargli un nome di fantasia. Ma in ogni caso se quel farmaco è stato registrato in quanto generico equivalente quindi sottoposto a questo tipo di normativa e di accesso al mercato questa informazione deve essere presente esplicitata sulla confezione. Quindi io ho tutti i modi che mi servono per sapere cosa sto prendendo a parte il fatto che lo posso chiedere al mio medico al mio farmacista e avere ovviamente tutte le informazioni necessarie.